e tagliamo uno e tagliamo uno e tagliamo uno che profondità l'hai fioccinato con la cronaca una clamorosa e gigantesca rissa in una piazza di un paese e finita nel sangue con un morto e tagliamo uno e tagliamo uno pur di non essere catturati e due Italia 1 e tagliamo uno e tagliamo uno anche il numero 163100 da rete fissa per i clienti Telecom, Wind e Fastweb e con cui si donano 2 euro con una chiamata ci sarà domenica e fino ad oggi ha raccolto 3 milioni e 700 mila euro. Sarà invece possibile anche dopo domenica versare con le carte di credito una serata un po' di relax e di divertimento su canale 5. C'è paperissima. Grazie intanto per averci seguito e buona serata. e portalo a casa tua grandi arti contemporanei l'opera più ricca, moderna e completa su scrittura, design, scultura, cinema, architettura e moda di oggi il primo volume solo un euro e con panorama prima visione un emozionante anteprima in esclusiva assoluta la maledizione la maledizione la maledizione la maledizione la maledizione la maledizione